Ma Proust rispetto a Roth e a Levi è totalmente un altro mondo, cioè la tecnica di scrittura e anche gli obiettivi della narrazione sono completamente diversi. Nonostante ci sia una trama effettivamente piuttosto semplice, lineare e vincibile dal testo. Quello che importa non è affatto quello, tutto sommato, ma l'indagine psicologica, in realtà cognitivo-psicologica che Proust fa sulle conseguenze, quasi una meccanica razionale delle conseguenze che eventi esterni di impatto emotivo fortissimo come una perdita, un abbandono, la scomparsa di una persona cara, possono avere sul protagonista o comunque su un individuo in generale. Il tema è sempre quello della memoria, o meglio, del come funzioniamo. L'intero edificio della recherche sostanzialmente punta a questo, cioè a una esposizione del funzionamento della macchina cognitiva, psicologica, emotiva che è l'essere umano. Nel momento stesso in cui dico macchina sembro suggerire una chiave del tutto razionalistica dell'indagine dell'autore, che però in realtà non è cosa esatta, perché l'eccesso di intellettualizzazione o coscientizzazione in questo profluvio espositivo inerente alle dinamiche sentimentali, emotive, intellettive dell'uomo, in realtà è talmente traslato in prima persona che noti tutta quanta la passione che c'è e anche il dolore, tutto come dire legato insieme da una sottilissima ironia che bisogna essere anche bravi a rendere, dell'indagine su se stesso, cioè hai l'impressione che in qualche modo questo noto mista che è l'autore si è egli stesso la cavia, l'oggetto di studio di quello che sta processando. Albertine scomparsa, capitolo primo, il dolore e l'oblio. Mademoiselle Albertine se n'è andata, come si spinge più in là della psicologia la sofferenza in fatto di psicologia. Un attimo prima, analizzandomi, avevo creduto che questo separarsi senza rivedersi fosse precisamente ciò che desideravo e confrontando la mediocrità dei piaceri offertimi d'Albertine con la ricchezza dei desideri che mi impediva di realizzare, avevo concluso, trovandomi sottile, che non volevo più vederla, che non l'amavo più. Ma quelle parole, Mademoiselle Albertine se n'è andata, avevano prodotto nel mio cuore una sofferenza tale che sentivo di non potervi resistere oltre. Così, quel che avevo creduto non essere niente, per me era, molto semplicemente, tutta la mia vita. Ti appassiona l'implacabilità con cui questa indagine è portata avanti da Proust su se stesso. Ed è questo che scongiura, diciamo così, il rischio di un eccesso di germinazione intellettuale del pensiero. Hai sempre l'impressione che ogni frase potrebbe essere l'ultima. Se se ne aggiunge un'altra, e un'altra, un'altra ancora, con questa complessità sintattica poi, è perché è come se a chi sta indagando non bastasse mai. Deve andare più a fondo, deve andare oltre. E questo rende questi testi appassionanti in una maniera tutta specifica, tutta precipua, soltanto di Proust. Quindi in questo è evidente che c'è una differenza enorme con la pura altissima letteratura di altro tipo che fanno gli altri autori che ho avuto la fortuna di leggere. Il primo incontro con Proust è legato alla Madeleine, la Madeleine studiata a scuola, cioè quel passaggio che chi ha la fortuna di arrivarci con i programmi, perché neanche ha detto che questo avvenga, consiste un po' nell'impatto con il Proust da studiare, per obbligo curriculare, al liceo. Devo dire che già allora ho rimasi così impressionato dalla precipuità della scrittura di Proust, che poi cominciai a leggere da solo la Recherche, lessi il primo capitolo, ovviamente ne rimasi folgorato. Da lì però si sono aperte poi tante altre porte, sono passato da Proust a Musil, quello è stato il passaggio proprio diretto dalla Recherche all'uomo senza qualità. E poi l'Ulisse di Joyce, cioè mi appassionò il gioco di apertura di porte diverse inerente alla ricerca sul romanzo che a cavallo, insomma, tra il XIX e il XX secolo è stata portata avanti in Europa, una stagione letteraria probabilmente irripetibile. Oggi, insomma, da anziano lettore, insomma, la parentela più stretta che colgo in realtà, se devo pensare alla lettura francese, magari dirò un'eresia, però è la passione del lettore che qui parla, è per esempio con lo Stendhal del Rosso e il Nero. Stendhal ha un altro modo di portare avanti il suo discorso, è evidente, non ha l'andamento contemplativo che ha Proust, che somiglia per certi versi a Walter Benjamin quando si mette davanti a un oggetto filosofico e lo guarda, riguarda, riguarda ancora da diverse angolazioni. Però il modus operandi del notomista, per l'appunto, che espone i meccanismi per i quali da un agente esterno, da un evento, si creano degli effetti interiori sconvolgenti, beh, è quello che io ho ritrovato tanto, anche quello da lettore adolescente, nel Rosso e il Nero, penso al momento in cui Julian Sorel tocca per la prima volta la mano di Madame Renal, e questa scena mi fa il paio in maniera molto forte, con diversi momenti in cui i protagonisti di Proust ci parlano direttamente, e anche questo è un nodo forte, il discorso quasi diretto con il lettore, di cosa gli sta succedendo, o cosa gli è successo, come però se stesse succedendo allora. È stata una sfida molto interessante trovare la chiave ritmica di questa scrittura, perché inizialmente può sembrare quasi una sfida impossibile leggere ad alta voce una testualità del genere, sembrava costruita per essere letta e riletta, riletta ancora per riuscire a cogliere bene ogni innesso sintattico da soli nella propria stanza. Un po' come succede al frusto dell'incipit della recherche, che si autofotografa in qualche modo nel momento in cui prima di prendere sonno legge, e mentre legge si addormenta, e si addormenta ripensando a quello che stava leggendo. Secondo me è anche un gioco ironico di suggerire al lettore come va letto il suo testo, però in questo gioco ironico non si manca di suggerire da parte di Proust stesso che questa parola ha in realtà una sostanza molto fisica. E' quella un po' la chiave da trovare nel momento in cui lo legge ad alta voce, cercare di rendere questi lunghi periodi, ricchi di digressioni e incisi, come dei corpi che autogerminano progressivamente delle propaggini. Se ce la fai e quando ce lo fai, perché esiste un momento esatto in cui scatta un click, dopo che magari per una o due sessioni ci hai sbattuto la testa contro, hai dovuto rileggere tu stesso due o tre volte uno stesso passaggio per leggerlo chiaramente, scatta qualche cosa per cui ti doni alla scrittura. E a quel punto succede uno strano fenomeno, è come se tu stesso cominciassi a funzionare in un'altra maniera, cioè funzionare meglio. In realtà è una... Credo che sia anche... ci sono in tanti passaggi di Proust che richiama la biologia, è una scrittura profondamente organica, è molto più vicina al funzionamento del nostro modo di pensare, di processare i pensieri, di quanto si possa pensare da chito quando si vede una frase che dura una pagina in cui vedi virgole, trattini, è un punto soltanto molto lontano da dove stai leggendo. Ma sul perché Albertine scompaia si può congetturare a lungo, un po' come fa il protagonista stesso. Quello che pare evidentissimo è che effettivamente i nostri due eroi appartengono a mondi molto diversi, ed è una cosa che Proust ci tiene molto a raccontare, la relazione esistente tra l'aristocrazia di antico o medio antico lignaggio e il resto del mondo borghese fondamentalmente, per non parlare poi degli strati più popolari, che bisogna stare attenti quando poi lì si restituisce a non indulgere nel bozzettismo, cosa che peraltro Proust non fa. Perché una cosa che è molto bella nel testo è che i personaggi non parlano tutti allo stesso modo. L'autore, che è un enorme autore, non un grande autore, sa benissimo che esistono tante lingue diverse all'interno dello stesso schema linguistico, che si parli di aristocrazia, si parli di borghesia colta, si parli di borghesia non colta o di strati popolari della popolazione, insomma, persone che peraltro spesso mostrano un'intelligenza più acuta rispetto a chi occupa scranni più elevati da un punto di vista di sceto e censo. Leggendo io mi sono un po' fatto l'idea che in realtà non si trattasse di inconciliabilità, di orientamenti erotici per esempio, affatto. Credo che anzi quello consistesse forse in una delle molle dell'attrazione reciproca tra i protagonisti. Credo che si trattasse più che altro di questi, di questo problema, di un problema sociale, culturale, che sta più nella testa di lui che non di lei. Io credo che i lettori di oggi possano attraverso Proust innanzitutto fare esperienza di un linguaggio, di una ricchezza inusuale. E non ne parlo come del solito, ai tempi andati si scriveva molto meglio di oggi, no, semplicemente la scrittura di oggi segue coordinate diverse, perché è l'oggi essere diverso da quello che era il nostro ieri, quando dico nostro intendo la civiltà culturale e letteraria, soprattutto europea. La ricchezza di Proust sta nella complessità della scrittura, non tanto nella complessità lessicale, cheppure è ovviamente mirabile, insomma, la capacità di Proust di descrivere, pur non essendo quello il suo obiettivo precipuo nella costruzione della frase, è mirabile. Però in questo incastrarsi di principali subordinate che si fa esperienza di un potenziale linguistico che per noi oggi è disusato, no? Non è abituale. Però ecco, è sempre un'esperienza interessante fare la prova di quanto ricco possa essere il bacino sintattico, la potenziale infinità di soluzioni, di costruzione di un discorso, perché tutto sommato quella lingua non è molto lontana dalla nostra. E poi c'è l'aspetto, al di là di quello formale e linguistico, dei contenuti. C'è un discorso sulla sessualità e sulla pansessualità, sull'importanza di innamorarsi di una persona e non di un vincolo d'orientamento erotico, che secondo me sono importanti da frequentare oggi, senza voler dare a Proust una palma di sponsor genderfluid antelitteram, perché non ne ha bisogno, insomma. Però è evidente che la modernità del discorso sull'Eros che Proust ci regala è importante perché aiuta anche a familiarizzare con un'idea un po' diversa della storia della nostra cultura. Noi non siamo immessi in un fiume progressista che ci porta ad essere più avanti, indefettibilmente, rispetto a chi è venuto prima di noi. Purtroppo siamo soggetti a degli avanti in tre e continui. E da un certo punto di vista, la visione di quest'uomo, figlio di un secolo che non è il nostro, figlio di generazioni lontane dalla nostra, è una visione sotto molti aspetti più lucida, più libera, più chiara, e rispettosa, rispetto alla nostra. Ma per me, riguardo l'effetto che fa tornare a frequentare un autore a distanza di tanti anni, vale un poco la regola super citata, però comunque vera, che un po' espone Calvino quando parla di che cosa sia un classico. Un classico è un testo che non sei tu a inseguire nel tempo. È lui che si approssima in qualche modo, no? Che mostra di volta in volta, a seconda delle generazioni, volti diversi e sorprendentemente contemporanei a chiunque ci si confronti. Quello che a me è successo con Proust è esattamente questo. Io posso dire che è cambiato quello che cercavo io in questo autore, perché il mio modo di approcciarlo a 17 anni è stato molto diverso rispetto a quello che ho adesso a 43. Non c'entra soltanto il fatto di essere cambiato io, c'entra proprio il fatto di cercare cose diverse, di arrivare con aspettative diverse al confronto con un autore. Il classico è quello che queste aspettative non le tradisce. Si può anche un po' parafrasare il Pasolini che parla della lingua, della questione della lingua italiana a cavallo, insomma, del boom economico, dicendo che il Proust che ti aspetti non è il Proust che ti aspetti, o il classico che ti aspetti non è il classico che ti aspetti. Cioè, quello che poi ti trovi davanti è pieno di una tale ricchezza che l'effetto è sorprendente praticamente sempre. Ora, non so se sarà così ancora fra cent'anni, però sono pronto a scommettere che un lettore di Proust di cui ha un secolo tutto sommato venga a dire cose non dissimili da quelle che sto dicendo io. E questo ha a che fare con tante cose, con l'autenticità di un autore, con la sincerità di un autore, l'implacabilità e da un certo punto di vista la spietatezza di un autore, il coraggio che ha di andare a fondo di un organismo che tutto sommato è quello che ci accomuna da uomini e donne sapiens da millenni. Quello che insegna Proust è tutto sommato la generazione di cui è formidabile, di cui ha fatto parte e che c'è sempre tanto da scoprire che la scienza da sola non riesce ad elaborare. La funzione della letteratura e dell'arte nella chiarificazione delle implicazioni legate al funzionamento degli uomini e delle donne come organismi è una funzione vitale.